Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale. Iniziamo subito con la difficile situazione politica italiana. Ieri il premier Enrico Letta ha incontrato Giorgio Napolitano e la sera in trasmissione televisiva da Fabio Fazio ha annunciato che mercoledì chiederà la fiducia in Parlamento. Vediamo. Tra citazioni cinematografiche e reminescenze di letteratura greca, ciò che appare chiaro dalle dichiarazioni del premier Enrico Letta è che non si dimetterà. Dopo le due ore di colloquio con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, infatti il presidente del Consiglio è apparso risoluto. Chiederò mercoledì la fiducia alla Camera e al Senato, ha dichiarato non per governare tre giorni ma per andare avanti con il programma. Non farò il re Travicello. Letta infatti precisa che non ha intenzione di governare a tutti i costi e sa che tutto dipende dal PDL e dallo scontro apertosi dalla dissociazione dei ministri al dictat di Silvio Berlusconi. Nonostante quel che dicono i sondaggi, la stragrande maggioranza degli elettori del PDL vorrebbe che continuasse l'esperienza del governo. Nell'incontro con Napolitano Letta ha parlato intervenendo la trasmissione connotata da Fabio Fazio, che tempo che fa, ammettendo di aver perso il filo in merito alle posizioni del PDL e alle vicende politiche, affermando che baserà la richiesta della fiducia su quanto fatto fino ad ora e su ciò che resta da portare a termine prima tra tutti la legge di stabilità. In merito alla riforma della giustizia ha aggiunto, parlare di giustizia sembra voler dire parlare solo di Berlusconi. La giustizia è un problema che riguarda cittadini. Letta esclude la possibilità di andare avanti con il Porcellum, augurandosi di ottenere la fiducia e cambiare al più presto la legge elettorale. In chiusura, una citazione cinematografica sul film con Bill Murray, Il giorno della marmotta. Mi è venuto in mente un film, Il giorno della marmotta, la storia di chi si sveglia la mattina e rivive sempre la stessa giornata. Lo stiamo vivendo da 20 anni e io sinceramente penso che dobbiamo dire agli italiani qualcosa di diverso. Sono qui per dare risposte ai tanti problemi concreti. Notata negativa per i voli aerei in Italia. Un aereo Alitalia è partito da Madrid e diretto a Roma. Ieri sera è finito fuori pista a Fiumicino dopo un atterraggio d'emergenza per il blocco del carrello destro. Un volo Ryanair diretto a Pisa è invece stato colpito da un fulmine nella notte. Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino. Un aereo dell'Alitalia proveniente da Madrid ha riportato un'avaria al carrello ed è stato costretto ad atterrare intorno alle 20.40 nell'aeroporto romano piegato su un fianco senza però finire fuori pista. Per favore la manovra sulla pista è stata cospasa della schiuma. I soccorsi sono stati immediati ma fortunatamente non è stato registrato nessun ferito. 351 passeggeri a bordo. L'aereo aveva tentato più di una volta l'atterraggio senza riuscirci. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha disposto all'apertura di un'inchiesta ma le ultime ore riportano la notizia di un altro incidente aereo. Un volo Ryanair in arrivo da Londra Stansid per Pisa è infatti stato dirottato a Genova a causa di temporali sulla città toscana ed è stato colpito da un fulmine. Lo rende noto Ryanair. L'aeroporto è poi atterrato normalmente ed è stato ispezionato da un ingegnere Ryanair che lo ha rimesso in servizio ed è ripartito per Pisa. La compagnia irlandese si è scusata con i viaggiatori per il ritardo. Arriviamo alla nostra pagina regionale e torniamo alla politica. Anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, oggi ospite di un convegno all'Università Cattolica di Milano, ha commentato la situazione di crisi del governo italiano. Sentiamo le sue parole. Ora la domanda affermazione il paese può farcela a titolo del convegno Sroad with Summer Italia 2013 suona più come un inquietante quesito. Dopo le ultime vicende di governo, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, si augura che questo non porti l'Italia a rischio commisseremento dall'Unione Europea. La crisi attuale ci preoccupa perché rischia di vanificare i sacrifici che gli italiani, tutti e le imprese hanno fatto in questi ultimi anni. Il rischio, avete visto i mercati stamattina che stanno fibrillando, sia in termini di quotazione delle borse che in termini di spread. Mi auguro che tutto questo non porti, questa instabilità non porti a una precettazione del nostro paese da parte dell'Europa, una gestione commissoriale. Quello che noi riteniamo fondamentale è che comunque il decreto legge di stabilità sia realizzato con le decisioni giuste che peraltro noi abbiamo già indicato al governo Letta e mi auguro che il buon senso, il senso di responsabilità di chi ci governa alla fine prevaglia. Fondamentale per il presidente di Confindustria che il governo realizzi la legge di stabilità a investire nel settore manifatturiero per far ripartire il paese. L'importante è che il paese tenga e che tengano i mercati finanziari e che il nostro paese non venga ulteriormente penalizzato. Non vorrei che ci ritrovassimo nella situazione dell'ottobre 2011. Un prionfetto c'è, domani aumenta l'IVA? È una questione tecnica, l'IVA evidentemente aumenta. Noi sull'IVA non eravamo particolarmente schierati, in quanto noi siamo, come Confindustria, l'abbiamo detto più volte, siamo a favore, come priorità vediamo innanzitutto il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, vediamo un intervento deciso sul costo del lavoro attraverso un effetto combinato IRAP, defiscalizzazione e decontribuzione del costo del lavoro che ci allinei in modo competitivo sull'Europa e un mettere in mano delle riforme istituzionali di cui il nostro paese ha drammaticamente bisogno. Il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, questa mattina a Milano ha definito quella che si è aperta nel governo italiano una crisi salutare. Ora si apre una fase di chiarezza, detto. Sentiamo. Una cosa è certa, il governo Letta è finito. Roberto Maroni commenta così la crisi delle ultime ore scatenata dalla richiesta di dimissioni dei rappresentanti del PDL da parte di Silvio Berlusconi. Mi sembra che una cosa sia certa che è finito il governo Letta. Prendiamo atto di questo, la decisione del PDL di togliere la fiducia è chiara e questa è l'unica cosa certa. Poi cosa succederà? Non lo so, vedremo tra oggi, domani e dopo. Io penso che Letta farà di tutto per fare Letta bis prendendo qualche transfugo o qualcuno che come è successo già con Prodi esce dagli altri partiti per attaccamento alla poltrona più che per attaccamento al bene del paese, come si dice. Sono molto interessato a capire quello che succede, però mi pare che quello che è successo abbia determinato una certezza, cioè la fine del governo Letta. E anche l'aumento dell'IVA che sta a trada domani. Questo certo è colpa del governo Letta che non ha saputo intervenire e per bloccarla nonostante le promesse. Il nostro obiettivo era far cadere il governo Letta. Ci siamo riusciti, bene, adesso vediamo quello che succede. Non c'è più bisogno di presentare le dimissioni perché l'obiettivo era questo. L'ho detto chiaramente, l'abbiamo raggiunto e bene, la crisi che si è aperta è una crisi salutare perché porta un chiarimento. Questa crocchio PD, PDL, governo di larghe intese non ha funzionato. Ha danneggiato il nord e bene che sia finita questa brutta esperienza. Adesso si apre una pagina nuova di chiarezza e la pagina nuova siamo molto interessati a vedere quello che succede. È partita oggi la riforma delle regole di Area C a Milano che introduce la novità del pagamento differito. Gli automobilisti ora potranno regolarizzarsi dopo l'accesso nella cerchia dei bastioni entro sette giorni. I dettagli nel nostro servizio. È tornata in vigore la prima riforma delle regole di Area C a Milano, la cosiddetta fase 2. La novità più importante è quella del pagamento differito. Finora gli automobilisti hanno dovuto pagare il ticket entro la mezzanotte del giorno successivo a quello di ingresso nella cerchia dei bastioni. A partire da oggi avranno invece a disposizione sette giorni di tempo per mettersi in regola. A quel punto però sarà necessario acquistare e attivare un tagliando da 30 euro. Così facendo si eviterà di ricevere a casa la multa pari a 95 euro se si sommano anche le spese di spedizione. Il nuovo tagliando consente quindi di ridurre di un terzo le sborso nel caso in cui si mancasse di pagare la congestion charge entro il termine delle 24 ore stabilito dal comune. Il tagliando da 30 euro può essere usato anche per saldare gli ingressi in Area C effettuati nella settimana appena trascorsa. Chiunque sia entrato nella cerchia dei bastioni da lunedì 23 settembre in avanti potrà da oggi attivare il nuovo tagliando e godere così dell'agevolazione. Inoltre il ticket per il pagamento differito può essere acquistato solo online sul sito internet di Area C. Ogni cittadino potrà crearsi sul sito un proprio profilo personale utile per controllare gli accessi nella zona a pagamento ma soprattutto per regolarizzare la propria posizione acquistando sia i tagliandi ordinari da 5 euro che quelli differiti da 30. Tutte operazioni che potranno essere effettuate online anche grazie all'attivazione del servizio di pagamento tramite Paypal. Vediamo ora la lista nera delle linee ferroviarie in provincia di Pavia quelle che dimostrano maggiori criticità. Il caso è sbarcato anche in regione. Che i pendolari vivano in condizione di stress per i continui ritardi dei treni questo è un dato certo soprattutto in provincia di Pavia tanto che in regione scattano le interrogazioni in consiglio. C'è una vera e propria blacklist delle tratte in cui il rispetto degli orari ormai è una chimera e parliamo ad esempio della linea Mortara-Novara da maggio a luglio qui l'indice di affidabilità degli orari non si schioda dal 5% e sulla Voghera-Piacenza la situazione non cambia da maggio a luglio ritardi oltre il minimo tollerato. Le direttrici Pavia-Torreberetti-Alessandria e la Pavia-Mortara-Vercelli poi hanno del paleolitico come testimoniano sul lab i rappresentanti del comitato pendolari pavesi parliamo di motrici a diesel anni 50 non ci sono mai posti a sedere in alcune fasce orarie soprattutto al mattino quando i ritardi non superano i limiti o i treni vengono addirittura soppressi. Il consigliere regionale del PD Giuseppe Villani chiede la convocazione di una conferenza dei servizi con Regione, Provincia di Pavia, Camera di Commercio e Trenord. La provincia di Pavia, dice Villani, è abbandonata a se stesse e le linee che attraversano sono quelle che periodicamente registrano i maggiori disservizi. Con questo è tutto, grazie e arrivederci.